Olga Lualdi, responsabile comunicazione. Lualdi è la casa? Lualdi è la casa. Lualdi non solo porte, ma da sempre Lualdi è presente anche nel settore dell'arredo e proprio non produciamo solo porte, ma facciamo forniture e contract, arredi su misura, mobili su disegno e progetto dell'architetto. Possiamo con orgoglio dire che molte case importanti portano la firma di tutti i nostri arredi, la realizzazione dalle buaserie, cabine armadio, sale da pranzo, hall di sale riunioni e quant'altro. Qui al Salone del Mobile presentiamo i nostri sistemi di buaserie, di pareti. Qui in questo angolo dello stand sono presenti tre nostri sistemi. Il sistema wall-in-door, che comprende interpareti dove vengono inserite poi le porte o pivotanti o porte scorrevoli. Sistema di buaserie, con ante poi completamente a scomparsa. Qui è presente quest'anta touch, dove addirittura la maniglia è a scomparsa e può racchiudere delle nicchie, può dividere degli ambienti e degli spazi. A porta chiusa si ha questa omogeneità e continuità della parete. Un altro sistema è il sistema domino, presentato e presente sul mercato ormai da diversi anni, disegnato dallo studio progetto CMR ed è questo mobile di contenitori che può essere o appoggiato alla parete o addirittura fa da interparete con tutti i mobili contenitori apribili dove in essi si possono riporre poi tutti gli oggetti che servono una sala da pranzo o uno studio. Quali sono i mercati emergenti per l'Ualdi? Per l'Ualdi, come penso per la maggior parte delle aziende qui presenti al Salone del Mobile, sono i paesi cosiddetti facenti parte del sistema BRIC, il Brasile, la Cina, tutto l'estremo oriente e anche l'India, dove in questo Salone del Mobile, devo dire, l'affluenza di visitatori indiani è veramente numerosa. In questi giorni abbiamo visto come non mai la presenza di indiani che vengono a vedere, a scoprire, a conoscere le nostre aziende.